Parte in sordina a Teramo Capoluogo il primo giorno di screening di massa. Nessuna fila nei 22 punti strategici messi a disposizione dei terramani dal Comune. I siti dove è possibile effettuare i tamponi rapidi o rofaringei sono stati individuati in base alle sezioni elettorali ed organizzati dalla Protezione Civile su incarico dell'ASL. L'affluenza nella prima mattinata di screening non è stata certo alta, piuttosto lenta ma costante. I terramani avranno modo di sottoporsi al test fino a domenica 20 dicembre e la speranza delle istituzioni è quella di arrivare a coinvolgere fino al 60% della popolazione. Un traguardo difficile se si considera l'andamento odierno, tuttavia c'è grande responsabilità tra chi sceglie invece di aderire alla campagna contro il coronavirus. Come è andata signora? Perché ha scelto di fare il tampone? Perché credo che sia una cosa giusta, almeno hanno una campionatura di persone che ce l'hanno o non ce l'hanno. Uno magari va in giro e ce l'ha, è giusto che insomma... Lei lo consiglia anche ai suoi parenti? A tutti, lo consiglio a tutti. Non è una cosa... è un pochino fastidioso però dura veramente pochi istanti. Però è giusto che insomma uno lo faccia, assolutamente. Buongiorno, è una buona giornata oggi? Sì, è un tempo meraviglioso e soprattutto un'occasione per testare la popolazione su questo fragello che ci sta colpendo. È la prima volta che fa il tampone? Sì, sì, sì. Ma io da quando c'è stato il lockdown ho condotto una vita praticamente monacale, quindi sono stato sempre chiuso in casa. Quindi questa è un'occasione per vedere se questo sacrificio è servito. Lo screening di massa è iniziato nei piccoli comuni del Terramano già da qualche giorno. Sull'intero territorio provinciale sono stati effettuati sino ad oggi 9.242 test e riscontrati 32 casi di positività. Gli ultimi a partire saranno domani Silvi e Giulianova e la campagna si concluderà per tutti domenica 20 dicembre. Si ricorda ai cittadini che potranno recarsi nei siti prescelti dalle ore 8 alle ore 16 e che una volta effettuato il tampone dovranno aspettare a casa l'essito che sarà comunicato entro tre ore dall'esame.